Ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Cerchiamo come sempre di raggiungere i 450 mi piace E anche per darmi una spinta ulteriore nel programmare la mia prossima live qui su youtube Questa unità mi è stata richiesta ovvero l'M4A1-76 che troviamo praticamente in questa colonna Si parte con l'M2 abbiamo visto l'M4 Sherman un po' di tempo fa poi l'M4A2 e poi arriva l'unità in questione Finisce la colonna con l'M63 per quanto riguarda l'Abrams e tutt'altra colonna Andiamo a vedere subito le sue caratteristiche considerando che il carro non è completamente sbloccato E soprattutto l'equipaggio non è qualificato neanche con la qualifica base perché sono povero e quindi non mi va di spendere i miei leoni Era 3 livello di combattimento 5.0 abbiamo un cannone da 76 davvero molto buono Mitraillatrice 12.7 e 7.62 velocità di rotazione torretta 14.9 gradi al secondo Brandeggio verticale fate molta attenzione meno 10.25 tempo di ricarica base 6.8 secondi Corazzatura scafo e torretta 63 abbastanza interessanti se devo essere sincero Però il carro dovrà essere inclinato ciò nonostante cercate di non abusare della sua corazza Penetrazione 149, 146, 133 a 10, 100 e 500 metri Utilizzeremo i proiettili M62 5 membri dell'equipaggio per far funzionare il nostro carro Mitragliere, pilota, servente, artigliere, comandante 32 tonnellate e velocità massima 38 km orari Questo è l'M4A176 Andiamo in partita per vedere qualche clip per vedere un pochino come funziona questo carro armato medio americano Dai ragazzi senza paura avanziamo Andiamo per il settore di Bravo Facciamo attenzione soprattutto alle avanzate laterali da parte dei nemici che ci saranno Sicuramente non si creeranno problemi nell'avanzare lateralmente Basti pensare a un T-34 che ti fa sempre quella cosa fastidiosa Hai visto? C'era pure questo qui Eh l'ho visto un secondo dopo se no ti avrei salvato Che ti devo dire? Sono tutti qui Porca misera non lo vedo sta dalla mia destra sta Ho distrutto Ce ne sta un altro sulla destra che non vedo Incredibile È vicinissimo ma Dove cavolo sta? Vabbè fai tu guarda Tanto penso che tu l'abbia danneggiato Quindi ce la fai tranquillamente Continuiamo ad avanzare Piano piano Dovremmo essere dietro i carri nemici in teoria Grazie Era gli S1 di prima Hai capito? Mi ha visto? Cioè abbiamo fatto 3 S1 Ce ne sta un altro qua dietro Veloce Veloce Sta là dietro sta Ora io non so se Lui viene da destra O da sinistra Non ho ben capito dove sta andando Ah ce ne sta uno Ok Questa retroma No Eh bravo Facciamo la stessa cosa Va Ma per favore Non mi fa perdere tempo Che sto registrando Un bel gameplay Dai Dai c'è un'antiaerea Che si sta facendo La scampagna Gua 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 What Ho preso l'albero Serio Qua ci sono tutti i panzer No i panzer Obiettivo distrutto Che è scoppio ritardato Sì effettivamente Lì sta un panzer qualcosa Il panzer di prima Della partita precedente Sono tutti loro No Sono Aiuto No Ho fatto Cioè quello ho avuto Ma posso essere distrutto Da uno che si chiama Ferdi Abbiate pazienza L'avevo visto Ho fatto il giro E mi ha distrutto Ma per favore Dai Io penso che Avremo Pochi problemi Con questo carro Contro nemici O questo Presentimento Ora vediamo se Effettivamente è così Adesso mi sto posizionando Per cercare di mostrare Solo la torretta Del mio carro Ricordiamo che abbiamo Esattamente Meno dieci Di depressione Quindi tecnicamente Dovrebbero bastare Per Là ce ne sta uno Tac Spaz Uh Non immaginavo Che sarebbe stato Così devastante Il colpo È saltato In mille pezzi È quello Un po' più complicato Da colpire Vediamo Si mette Proprio Riesco a cingolarti Non penetrato È quello Un po' più complicato Almeno un cingolo Riusciamo Pilota Mitragliere Ok vabbè Comunque abbiamo fatto Un piccolo Come dire Ok E nulla Se non esce Non riuscirò mai A penetrarlo Si è ripreso E si è ritirato Qua siamo messi Veramente benissimo Perché abbiamo La copertura sinistra C'è la roccia A destra Insomma Devono avanzare Un bel po' Per potermi prendere E abbiamo Comunque Una buona Porzione Di mappa Che possiamo Utilizzare Per sparare Quindi direi Che Eh lo so Lo so Lo so Lo so Devo un attimo Abbiamo 17 colpi Non è che sono Tantissimi Durante una Una partita Possono Risultare Pochi Fammi dare Un'occhiata Eh ho capito Ah eccolo 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 La dietro Assist Chi era Quello di prima Eh si Quello brucia No è stato distrutto Quello lì Vero Ok Potete uscire Dal Dal vostro Nascondiglio Per favore Grazie Comandante Servente Pochino Eh Dai 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 Perché Non mi dai La kill Cos'è questo Che dà fastidio Là ce ne sta Un'altra Comunque Con il tiger Che è sopravvissuto Eh Bastava pure Una Non so Il motore Qualcos'altro Tutto tranne quello E quindi Se è riuscito A mettersi in copertura Da là abbiamo Problemi Ni Non si fa vedere più Il tiger Oh Basta L'ho mancato Serio Il suo 85 Beh Non potevi scappare All'infinito Comunque il cannone Ragazzi Fa male Cioè Bene pazienza E' vero che era nel lato Era un cacciacarri Era molto morbido Però anche gli altri carri Che abbiamo colpito Hanno sentito La Pesantezza Del cannone Questo punto Lo adoro L'ho già detto Binoculo Possiamo dare un'occhiata Anche sulla sinistra Sinistra Però Non mi voglio Esporre troppo Perché poi Colpo Aereo abbattuto No c'è la bomba C'è la bomba What? Siamo riusciti a sopravvivere Aspetta arriva l'altro Aiuto Sì Una kill per devi Sull'aereo Oh ragazzi Intanto l'aereo E' stato distrutto Cioè Mica Bao bao Micio Micio Ora dobbiamo Capì Comandante Culatta In difficoltà Veloce 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 Che soddisfazione Quando distruggo I carri così Piccoli Cioè E' veramente Bello Capito Tac Kill Comandante Servente Motore Radiatore Serbatoio Sicuramente Tu non ti puoi muovere Ho questo presentimento Ok Aspetta un pochino Più a destra Vabbè Io riproverei Quasi quasi Non vorrei perdere La posizione del mouse No Un pochino più in alto Serio Ho mosso Il mouse Per quel centino Eh ma sta bruciando Per merito mio Ok Quello è un Panther G Un Panzer Qualcosa Vediamo Ok Continua a bruciare Però eh Non vorrei muovere Il mouse Capito Perché Ho Il tiro Ok Sto colpendo Magari un centimetro Più a destra Vai provare Eh assi Lo sapevo Panzer 470 Partita vinta Buona prestazione Cosa mi dai 80.000 Sì 80.000 Leoni Mi servono Nella maniera Più assoluta Perché sono sempre In costante Riserva Portiamo a casa Duro a morire Fuoco di supporto Vendicatore Soccorritore Di carri Per due Sere di assist Per tre E anche A disposizione Esteticamente Il carro È abbastanza Bello Per quanto riguarda La mitraiettrice 12.7 Non ho avuto Modo di utilizzarla Perché nell'unica Occasione Che veramente Serviva Era danneggiata E non avevo I pezzi di ricambio Per ripararla Comunque Può essere utile Perché ovviamente Attiro molto facile Su eventuali aerei Che stanno venendo Contro di voi La 7.62 Non serve a niente O comunque sia poco Ma ovviamente Il pezzo forte Del carro È il cannone Da 76 Che non lascia Scampo Ai nemici L'ho trovato Davvero devastante In tutte Su tutte le distanze Avete visto Che comunque Causa dei danni Davvero molto ingenti Anche un Tiger Secondo me Messo frontalmente Potrebbe Diciamo Fare conti Con diversi Problemi Che il cannone Da 76 Andrebbe A causare Al Tiger Stesso La corazza Non ho avuto Modo di testarla Più del dovuto Però secondo me È abbastanza Come dire Buona Se inclinata A dovere Il carro Comunque risulta Essere abbastanza Piccolo Quindi Non occupa Molto spazio Se dovete fare Una giocata Con una roccia O cose Del genere Con i vari Pezzi Di mimetismo Con i vari Con la Personalizzazione Le varie Decorazioni Il carro Risulterà Ancora Più Invisibile Sicuramente Un carro Divertente E che costa 2667 Dico bene Leoni Considerando però Che non è sbloccato Al 100% Quindi Ogni pezzo Che andrete a mettere Andrà ad aumentare Il costo Di riparazione Del vostro carro Quindi Parliamo Di un prezzo Che sicuramente Va a salire Considerando Che siamo Un era 3 E per l'economia Del gioco Come sempre Ritengo Che sia Un po' Troppo Elevato Il tutto Sicuramente Da avere Un'esperienza Da fare Se giocate A War Thunder Ragazzi Video terminato Io come sempre Vi ringrazio Per i like I commenti E le visualizzazioni E noi Ci vediamo Alla prossima Ciao